...del servizio sacerdotune, ti preghiamo un minuto, della comunità del Ponte, del San di Cristo, lo Spirito Santo, ci rischia in solo forza, ricordati, Padre, della tua chiesa diffusa, e dirà perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Papa Francesco, ricordati, dei nostri fratelli, che sono addormentati nella speranza della usurrezione, e tutti i dettagli che si affinano alla tua clarenza, ammettili a volere la luce del tuo voluto, prima di tutti, ammigli sei tu, dono, attraverso la vita eterna, insieme ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.